Carissimi, ben ritrovati a tutti, siamo in questa serata che ci sta preparando un po' alla volta all'appuntamento, alla festa della Madonna del Rosario di domenica prossima e anche stasera viviamo i nostri cinque minuti con Maria, dopo che in queste giornate nel pomeriggio ci stiamo dando appuntamento per il Rosario comunitario in Chiesa. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Continuiamo la lettura della parola del Signore dal Vangelo di Luca. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. innanzitutto sapete dove ci troviamo? Un luogo che tanti, tutti noi conosciamo e che tuttavia si presenta in una veste nuova. Siamo proprio nella sala Cardinal Agliardi del nostro oratorio, una sala rinnovata che è ormai pronta per questo nuovo anno pastorale che vedrà anche qui in questa sala tanti incontri, tanti appuntamenti con voi ragazzi, con le famiglie, con la comunità, tanti appuntamenti per condividere, crescere insieme, ascoltare la parola, vivere appunto la dimensione di comunità. Nel Vangelo noi abbiamo sentito un nome, Elisabetta. Elisabetta era cugina di Maria, era moglie di Zaccaria, erano ormai anziani e non avevano figli, ma sei mesi prima era arrivato un annuncio particolare a Zaccaria che anche loro avrebbero avuto un figlio. E infatti l'angelo dice questo è il sesto mese per Elisabetta, lei che era conosciuta nel villaggio come la sterile. Ciò che sembrava impossibile già si è realizzato in Elisabetta. Ciò che sembra impossibile in Maria si realizza in lei. Col suo sì lei darà spazio a questo mistero che entra nella vita di questa giovane donna, ma nella vita di tutta l'umanità. Noi stiamo guardando a Maria in questa settimana, prendendo a prestito un passaggio della bellissima preghiera che Dante mette sulla bocca di San Bernardo nella terza cantica, il Paradiso, dopo che nell'estate abbiamo un po' guardato la Divina Commedia nel nostro centro estivo e proprio in questa preghiera si saluta Maria come fontana di speranza, fontana di speranza vivace. Cos'è una fontana? Una fontana d'acqua, cioè dà vita. Ecco, guardiamo Maria come colei che dà vita, come colei che ci porta la vita per eccellenza che è suo figlio Gesù. E allora questa vita diventa davvero la grazia, l'amore, la misericordia con cui noi siamo avvolti. Ecco perché non a caso vi dicevo siamo in questa sala, perché nella parete di questa sala rinnovata, la sala Iardi, noi troviamo proprio questa sorta di cascato, uno squarcio che lascia entrare questo magma dorato. Loro nella sua bellezza, nel suo splendore, nella sua preziosità, è il segno proprio della vita che è abbondanza, che è fecondità. Noi stiamo portando e continuiamo a portare in questi giorni quelle gocce che ci sono state date in riferimento proprio alla fontana vivace di speranza. Ma la grazia non è soltanto una goccia, è addirittura una cascata. Ecco perché nella nostra vita, anche con la festa della Madonna del Rosario, vogliamo lasciare entrare questa cascata di grazia, di misericordia, di amore. Insieme recitiamo la preghiera. Salve Regina, madre di misericordia, vita dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo esuli figli di Eva. A te sosperiamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Ursu dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Continuiamo la nostra preghiera in queste sere. L'appuntamento poi sarà sabato alle 15 con il nostro Vescovo Francesco, che ha iniziato il pellegrinaggio pastorale anche nella nostra comunità. Pregheremo insieme il Rosario. L'abbiamo fatto in questi pomeriggi. Lo faremo anche sabato, invitando anche voi ragazzi, le famiglie, un po' tutta la comunità. E poi, domenica, nella celebrazione eucaristica, soprattutto quella pomeridiana, in cui invitiamo anche voi, alle ore 16, seguita dalla processione. E lì porteremo, insieme alla statua della Madonna del Rosario, anche queste gocce su cui avete scritto i vostri nomi, qualcuno ha già fatto anche dei disegni, proprio come questa cascata di grazia che ci arriva invocando Maria. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente nell'amore Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona serata e buona preparazione a tutti. Grazie a tutti.